Allora, guardate un po' che cosa c'è in questa foto Questo è il gatto Zorba E questa è la nostra amica Gabbianella Che nel frattempo è cresciuta È fortunata lei Di nome e di fatto, guardate un po', sta volando Fortunata, pensava di non essere capace a volare Invece, dopo alcuni tentativi, è riuscita molto bene a volare Anche noi possiamo provare, riprovare a fare Quello che ci piace fare o quello che desideriamo E se ci impegniamo, bambini, alla fine ci riusciremo Ma vi faccio una domanda Secondo voi, possono volare soltanto gli uccellini? Guardiamo un po' Questi sono uccellini e volano Le ali per volare li hanno soltanto loro Quindi fisicamente possono volare gli uccellini Ma avete mai pensato che con la fantasia ciascuno di noi può volare? Provate un po' a dirci, a disegnare, come preferite Che cosa vorreste fare? Quello che vi piacerebbe fare da grandi, domani Se solo fosse possibile farlo con un po' di fantasia Aspettiamo le vostre risposte Ciao bambini, grazie